TSD News Team TSD News Team Team TSD News Team 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 una sorta di vigilante per combattere una piaga che lo affligge, quella dei bambini colombiani rapiti da trafficanti di esseri umani per essere sfruttati sessualmente. L'eroico agente federale, dopo aver salvato un ragazzino da spietati trafficanti, scopre che la sorellina è ancora prigioniera e decide di imbarcarsi in una pericolosa missione per salvarla. Così si addentra nella giungla colombiana, mettendo a rischio la sua stessa vita pur di liberarla da un destino peggiore della morte. L'eroismo del protagonista contribuirà a dare avvio ai protocolli di cooperazione internazionale nella lotta alla pedopornografia e alla tratta dei minori. Non vogliamo però svelarvi il finale. Passo ora la parola a Jacinta. Noi siamo rimaste molto impressionati da questo film, perché oltre a raccontare una storia vera ed emozionante, è un prodotto cinematografico di alta qualità, sia per lo stile narrativo che per la bravura degli attori, compresa la fotografia e la colonna sonora. Il film punta i riflettori su alcuni degli argomenti più bui della nostra società, la tratta dei minori, la pedofilia e la pedopornografia. Questi sono fenomeni poco conosciuti dal grande pubblico, ma in drammatica crescita. Il film mostra che la pedofilia purtroppo non è solo una perversione di pochi adulti disturbati, ma è una vera e propria organizzazione criminale, un business tentacolare con le sue regole, i suoi campionari, i suoi fornitori e i suoi clienti finali. I bambini sono solo poveri oggetti di scambio, di abuso e di scarto. Per queste ragioni, nel nostro piccolo, vogliamo sensibilizzare il pubblico sul fatto che ogni anno nel mondo scompaiono milioni di bambini, che significa decine di migliaia ogni giorno. E anche in Italia il fenomeno è drammatico. Infatti, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in Italia nel 2022 i minori scomparsi sono stati in totale 17.130, di cui 13.002 minori stranieri e 4.128 minori italiani. Di questi ultimi, circa il 26%, ovvero 1.073, non sono stati più ritrovati. Non a caso il film è consigliato per le scuole medie e superiori, perché educa bambini e ragazzi sui rischi legati all'ipersessualizzazione precoce, all'uso di immagini minori nei social media e ai pericoli degli adescamenti nel web. La storia, inoltre, testimonia che le scelte di una persona possono salvare la vita di tanti innocenti condannati alla sofferenza. Allo stesso tempo è commovente leggere nei titoli di coda i nomi di migliaia di investigatori e volontari che si sono uniti a Ballard in questa lotta, mettendo a repentaglio la propria vita per svelare e denunciare questo osceno inferno. Infatti, nella vita reale, il signor Ballard ha fondato un'associazione di volontariato per combattere questo fenomeno e per fornire assistenza a quelli che vengono salvati dai loro aguzzini. La onlus si chiama Operation Underground Railroad e vi invitiamo a visitarne il sito. Chiudiamo, rinnovandovi l'invito a correre al cinema, a vedere questo capolavoro. Tante immagini e sguardi vi resteranno scolpiti nel profondo e due frasi in particolare vi risuoneranno nel cuore. I figli di Dio non sono in vendita e quando Dio ti dice cosa fare non devi esitare. Con questo vi diamo una buona serata da Newstine. Ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS